Sono stati consegnati su iniziativa del gruppo ANAS Ferrovie dello Stato i lavori di completamento della strada statale 683 variante Libertinia di Caltagirone. Gli interventi prevedono la realizzazione del cosiddetto lotto B, vale a dire all'unico anello mancante di questa infrastruttura viaria. È un tratto di 4 chilometri di cui uno sarà costruito in galleria e i restanti tre su Via Dotto per un importo complessivo di circa 220 milioni di euro. Le procedure ai fini del completamento di questa importante infrastruttura furono riprese e avviate dall'ex Presidente della Regione Nello Musumeci, oggi Ministro della Protezione Civile. Per fortuna siamo all'ultimo lotto, parliamo di un'opera che si trascina da oltre 40 anni e questo vi dà la dimensione, vi dà l'idea di quanto sia difficile fare infrastrutture in Sicilia. E' un tema all'ordine del giorno del Governo, semplificare le procedure per consentire alla nostra isola di dotarsi di una infrastrutturazione soprattutto viaria ma anche ferroviaria, portuale, aeroportuale che consenta alla Sicilia di competere con un Mediterraneo che cambia. Il lotto bis si snoderà dal bivio Salvatorello ricadente lungo la strada provinciale 37 Caltagirone Mirabelle in Baccari, sin aggiungere alla bivio Gigliotto e località di San Cono innesto con la strada statale 117 bis Gela Piazza Armerina. Valtre si è precisato che allo stato attuale sono in corso di esecuzione lavori del cosiddetto lotto A. Questi per 76 milioni di euro stanno invece riguardando la costruzione di un asse di prosecuzione che si stenderà per 3 chilometri e 700 metri di cui 460 su via Dotti e 860 in galleria dallo svincolo Regalsemi alla rotatoria San Bartolomeo innesto con via Cristoforo Colombo nella strada statale 124 Siracusana che è l'ingresso al centro abitato di Caltagirone. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!